Compagni e compagni, adelante, prepariamoci a riconquistare quello che ci è stato torto, riappropriandoci innanzitutto del diritto di sognare, prima ancora di costruirla, una società giusta, attenta ai bisogni di tutti, una società nella quale il lavoro sia un diritto e non una concessione compassionevole dei padroni, che speculano sui bisogni per imporre sfruttamento e precarietà, una società nella quale la tutela della salute, l'istruzione, la pensione, siano diritti garantiti a tutti e per questo pubblici, per assicurare varie opportunità e dignità a tutti i cittadini. Non abbiamo invalicabili montagne da scalare in questa nuova lotta di liberazione del Paese, ma spesso le insidie della pianura sono ancora più pericolose, soprattutto se si è persa identità di classe e capacità di riconoscere il nemico. Da 35 anni subiamo una politica fatta di compatibilità, di sacrifici, di contenimento salariale, con la quale si è risposto alle ripetute crisi del capitalismo, fino ad arrivare alla profonda e drammatica crisi economico-finanziaria degli ultimi 5 anni, una crisi sistemica della quale ancora oggi si fatica a intravedere la fine, e soprattutto il modo in cui se ne uscirà. Anche se ogni tanto qualcuno ci dice di vedere la luce fuori del tunnel, ma è solo un camion che arriva contro mano, puoi fare i baglianti accesi. Dalla fine degli anni 70, con la svolta dell'euro, ma ancora prima, CGL e CISL e Will sono state protagoniste e discusse di una lunga stagione di concertazione che ha prodotto non solo un arretramento nelle condizioni dei lavoratori, ma un loro sostanziale annichimimento e un generale senso di rassegnazione. La moderazione salariale è stata contrabandata con la promessa di maggiore occupazione, mentre i dati sulla disoccupazione risultano in continua crescita e di recente si è toccata quota 11,2%, mentre gli inattivi arrivano al 36,3%. Aumentano i licenziamenti, che nel 2012 hanno superato il milione, con un incremento del 14% rispetto all'anno precedente. Dati che esprimono il pieno fallimento di quella politica. Negli ultimi cinque anni, l'acuirsi della crisi economica ha diffuso tra i lavoratori pubblici quasi un senso di colpa per aver mantenuto, almeno in apparenza, la stabilità dell'impiego di fronte alla marea di lavoratori del privato licenziati o finiti in cassa integrazione e mobilità. Non che manchi la consapevolezza di quando sia stata colpita la pubblica amministrazione in termini di servizi, blocco dei contratti e delle retribuzioni complessive, peggioramento delle condizioni lavorative, ma spesso non si va al di là dell'orgugno individuale, della semplice lamentera. È venuta meno una coscienza di classe che va ricostruita dalle fondamenti. Di fronte alle profonde trasformazioni che hanno investito il pubblico in piedi, imposto processi produttivi simili al modello fabbrica, ridotto spazi sindacali e utilizzato il codice disciplinare in modo vessatorio, non c'è stata un'adeguata reazione. Una fitta nebbia confonde i piani di lettura degli avvenimenti e non si ha più consapevolezza di chi sia il nemico. Tutto è confuso e trasferito sul campo della finzione televisiva. La politica ha abbandonato i territori e si è trasferita nei talk show. Sono nati i partiti fast food della durata di una campagna elettorale, basti vedere l'esperienza di rivoluzione civile. E anche questo non aiuta un riavvicinamento alla politica. Dal protagonismo delle piazze si è passati alla comoda poltrona di casa dalla quale seguire la realtà per come ci viene raccontata dai media. Nonostante vent'anni di abusi, scandali, processi, politiche antisociali, il partito di Berlusconi, inteso nel senso letterale del termine, in pochi mesi è riuscito a recuperare un distacco dal PD che sembrava incolmabile. E' da imporre un modello di governo e l'agenda politica frutto dell'inciuso tra le due principali forze politiche, fintamente alternative tra loro. Il voto degli elettori è stato violato, deturpato, offeso. Il PD è imploso sotto il peso dei veti incrociati interni delle incapacità della propria classe dirigente, tradendo la parola data agli elettori e ripetuti impegni a formare un governo del cambiamento. Le elezioni che avrebbero dovuto rappresentare la fine del berlusconismo hanno invece rimesso Berlusconi al centro della scena politica del Paese. E al successo del PDL avrà probabilmente contribuito ancora una volta, anche se in misura minore che in passato, un notrito gruppo di lavoratori dipendenti che negli ultimi vent'anni sono rimasti, come tanti altri, attratti dalla storia del self-made man di successo, incuranti delle politiche attuate dai governi berlusconi e dei ripetuti scandali, anzi, prendendoli ad esempio delle proprie aspirazioni in misura di una nuova moralità in cui il possedere ha definitivamente scalzato l'essere. Eppure una richiesta di cambiamento radicale è nell'aria ed è rappresentata essenzialmente da quel 30% che ha disertato le urne e dal 25% che ha votato Movimento 5 Stelle, non tanto per sostenere una proposta politica che si fatica a decifrare nel suo complesso, ma come segno di opposizione pure e semplice, molto di pancia, frutto di un'evidente disgregazione sociale. Un forte gruppo di normali cittadini è sbarcato in Parlamento. Nei prossimi mesi si vedrà se la loro presenza risulterà realmente una spina nel fianco del sistema o se saranno rapidamente risucchiati dall'ingranaggio. Quel che è certo è che la richiesta di cambiamento contro i sacrifici imposti dalla finanza internazionale è stata soffocata dalla nascita di un governo che si è affrettato a rassiculare l'Europa sulla stabilità dei conti e sul proseguimento della linea tracciata dalla Troica e attuata dal precedente governo Monti. Le prime dichiarazioni del mio ministro dell'economia, saccomanni, fanno capire come il pubblico impiego rimanga nell'occhio del ciclone di altre imminenti manovre. Dove saranno trovati infatti i 12 miliardi per l'abolizione dell'Imo, i 4,5 miliardi per evitare l'aumento dell'Iva e i 2,5 miliardi per non far scattare i nuovi ticket nella sanità? Si aumenterà la tassazione locale, si taglieranno i servizi, si chiuderanno uffici pubblici, si prolungherà il blocco dei contratti o addirittura si ridurranno le retribuzioni? Sono le solite ricette che guardano la pubblica amministrazione come territorio da saccheggiare e ai lavoratori pubblici come soggetti da mortificare, mentre la PC e Italia di un ulteriore 0,5% il costo del denaro, favorendo banche e grande finanze. CGL e CISL1000 si apprestano a stringere un nuovo patto infame con Buffindustria per rendere immediatamente esigibili gli accordi sottoscritti nel lavoro privato, impedendo ai lavoratori di mettere in discussione quanto concordato tra le parti a maggioranza, arrivando a prevedere sanzioni o addirittura l'espulsione dalla RSU dei delegati che non dovessero allinearsi a quanto stabilito. Per partecipare alle elezioni a RSU si dovrà obbligatoriamente sottoscrivere il patto con Confindustria e accettare di non scioperare contro accordi non condivisi. Stabilendo regole antidemocratiche nel mondo del lavoro privato che potrebbero essere applicate attraverso accordi successivi anche al pubblico impiego, si vuole così impedire che i lavoratori abbiano un ruolo attivo che possano decidere e incidere sul proprio futuro. I contratti collettivi dei lavoratori pubblici sono fermi al 2009 e il governo Monti negli ultimi giorni di vita ha iniziato le procedure per prolungarne il blocco a tutto il 2014. Dal 2011 sono ferme anche le retribuzioni complessive. La questione salariale diventa quindi tema centrale anche per i lavoratori pubblici che pagano un prezzo pesantissimo per la crisi economica e per le misure decise dai diversi governi. Il mancato aumento stipendiale di un anno si rifletterà su tutti gli anni di lavoro senza possibilità di recupero. A un lavoratore che a gennaio del 2010 mancavano ancora 15 anni di lavoro prima della pensione l'attuale blocco dei contratti costerà circa 50.000 euro complessivi di mancato introito stipendiale. In questo quadro politico, economico e sindacale iniziamo oggi i lavori del primo congresso nazionale dell'USB pubblico impiego. In queste ore si sta svolgendo il primo congresso nazionale dell'USB lavoro privato. Alle compagni e compagni impegnati nei lavori di quel congresso fa il nostro saluto e l'augurio di un proficuo esito dei lavori. Negli ultimi due mesi siamo stati tutti impegnati nello svolgimento dei congressi aziendali, provinciali e regionali. Un percorso faticoso che ha attraversato l'intera categoria e messo in relazione le diverse esperienze lavorative intorno ai due documenti congressuali, quello confederale e quello di pubblico impiego. Hanno sbagliato quei compagni delegati nazionali che si sono chiamati fuori dal percorso congressuale e che hanno tentato di trascinare in questa insensata protesta iscritti e delegati territoriali. Su questo il coordinamento nazionale uscente si è espresso l'8 aprile scorso con uno specifico ordine del giorno. Se c'è dissenso, quale contesto più appropriato del congresso per manifestarlo? La democrazia non va solo invocata, ma anche praticata. In questo senso ci aspettiamo un dibattito franco, acceso se necessario, convinti che questo sia il luogo nel quale sciogliere eventuali nodi e trovare risposte comuni. Per ripartire all'indomani della conclusione dei lavori con la forza e l'unità necessarie a fronteggiare il nemico con scelte rapide e coraggiose. La decisione di organizzare il pubblico impiego in un'unica categoria non è in discussione, così come l'individuazione del coordinamento regionale come articolazione territoriale. Riteniamo queste scelte condivise e già oggetto di approfondita analisi nella conferenza d'organizzazione del 2011. In questo percorso congressuale sono stati costituiti i coordinamenti delle regioni dove non era presente questo livello organizzativo, come nel Lazio, e rinnovati quelli già esistenti. L'impegno prioritario in ogni territorio dovrebbe essere quello di far funzionare al meglio il livello organizzativo regionale, facendolo diventare sempre di più il luogo in cui si progetta l'intervento sul territorio e si mettono in relazione i diversi settori, in rapporto con il livello nazionale della categoria. Per questo la presenza dei territori nel luogo coordinamento nazionale di pubblico impiego sarà importante come lo è stato finora, insieme alla rappresentanza nazionale dei settori. Chi parteciperà ai lavori del coordinamento nazionale dovrà tuttavia garantire che i risultati del confronto diventino patrimonio comune dei territori e dei settori di provenienza, cosa che in passato non ha sempre funzionato come avrebbe dovuto. Dobbiamo costruire organismi partecipati, allarcati ma funzionali. La collocazione dei delegati nel Consiglio nazionale e nel coordinamento nazionale non deve essere la medaglietta da appendersi al petto ma un impegno serio da onorare con la presenza costante ai lavori del tuo organismo che da questo congresso usciranno rafforzati nelle loro funzioni. Il Consiglio nazionale, che già ora ha il compito di intervenire nelle modifiche statutarie, sarà sempre più coinvolto nell'adeguamento dello statuto alle fasi di cambiamento e occorrerà il massimo di unità possibile per affrontare la delicata fase politica che si sta aprendo. Non dobbiamo nasconderci le difficoltà registrate finora nel funzionamento dei coordinamenti regionali ma pensare di risolvere questa carenza concentrando magari il proprio intervento a livello provinciale riteniamo sia un errore. Cosa ce ne facciamo in una provincia forte se il resto della regione è tempo? Con questo non vogliamo porre barriere rispetto ad una maggiore articolazione territoriale della struttura organizzativa un tema già affrontato alla conferenza organizzativa di Frascate ma occorre tenere presente le priorità. Avremo modo in questi giorni di discutere anche di questo e della possibilità che in alcuni territori si costruiscano coordinamenti provinciali di pubblico impiego. Riteniamo utile panorizzare i coordinamenti nazionali di settore come strumento di lavoro non statutariamente previsti con l'obiettivo di rafforzare la categoria unica di pubblico impiego e tenere unite le diverse strutture all'interno del settore. Se invece si perde lo sguardo d'insieme e ci si rinchiude nel proprio ristretto ambito si torna indietro ad una visione che pone al centro del progetto organizzativo il settore se non addirittura la singola struttura aziendale e questo sarebbe un gravissimo errore. Dal confronto di questi due giorni riteniamo possano uscire preziose indicazioni per la Costituzione e il rinnovamento dei coordinamenti nazionali e delle direzioni nazionali di tutti i settori del pubblico impiego. Dobbiamo rinnovare il quadro dirigente dell'organizzazione e guardare con attenzione al lavoro svolto dalle delegate e dai delegati nei territori. In questo senso è molto utile il lavoro svolto dalle compagnie e dai compagni dell'esecutivo nazionale di pubblico impiego che hanno girato i territori così come è stata opportuna la presenza dell'esecutivo ai congressi regionali. Un lavoro che andrà sicuramente proseguito dal futuro esecutivo nazionale interagendo con la Confederazione nazionale per permettere costantemente una relazione tra la categoria ed il piano generale dell'organizzazione. Ma se l'aspetto organizzativo è importante e mai è stato trascurato ancora più importante è la passione con la quale viviamo l'impegno militante in questa organizzazione sindacale e che spesso ci ha aiutato a superare le difficoltà di funzionamento. Siamo tutte e tutti parte di un grande progetto di ricostruzione del movimento dei lavoratori in questo Paese. Una scommessa lanciata tre anni fa con la Costituzione della USP i cui esiti non erano affatto scontati. Alcune importanti esperienze del sindacalismo di base come COPAS e CUP decisero di non unirsi a questo progetto allorccandosi in presunte rendite di posizione. Dobbiamo essere orgogliosi del contributo che abbiamo tutti dato finora all'afforzamento dell'unione sindacale di base. I risultati delle ultime elezioni a versione del pubblico impiego sono la testimonianza di un sindacato che tiene e mantiene solide radici in un momento di grande difficoltà generale. Avanzando in settori storici come il Parastato mettendo cermogli nella scuola e penetrando con sempre maggiore forza in settori non facili come gli enti locali. Certamente non dobbiamo dimenticare che ancora una volta l'80% dei voti è andato alle organizzazioni complici ma questo non ci deve scoraggiare e dobbiamo impegnarci perché il segnale di protesta e di rinnovamento inviato con le recenti elezioni politiche arrivi anche al sindacato e ci trovi preparati a interpretare e guidare le istanze di cambiamento altrimenti il rischio è quello di essere accomunati a tutti gli altri e di essere tralotti dalla protesta. Dobbiamo essere capaci quindi di sognare e di farlo in grande. alle politiche liberiste di privatizzazione del welfare di smantellamento del sistema pubblico di garanzie e tutela dei cittadini dobbiamo rispondere con un progetto rivoluzionario. Alle leggi antisociali che hanno devastato il mondo del lavoro pubblico imposto il precariato tagliato gli stipendi in caso di malattia negato retribuzioni adeguate al lavoro svolto opponiamo la pratica del conflitto. Riconquistiamo diritti servizi dignità usciamo fuori dai nostri posti di lavoro rinsaldiamo il rapporto con i cittadini e con gli altri lavoratori costruiamo una relazione sempre più strutturata tra lavoro pubblico e lavoro privato praticando nei fatti la confederalità. Le vertenze dell'Ilva di Taranto del San Raffaele di Milano del Vaffanculo dell'Ips sono alcuni esempi della trasversalità del nostro agire che vanno ampliati quantitativamente e qualitativamente portiamo anche la più piccola vertenza all'esterno raccordandoci con le federazioni territoriali se chiude un ospedale mettiamo in relazione i bisogni del personale sanitario che rischia la mobilità o licenziamento con il diritto dei cittadini ad avere un presidio sanitario in prossimità lo stesso per una scuola o per un ufficio pubblico rompiamo quella contrapposizione artificiosa teorizzata dai vari di chino e prometta che ha visto da una parte i lavoratori pubblici descritti come fanno loro gli assenteisti privilegiati e garantiti e dall'altra i cittadini utenti di una pubblica amministrazione che non si vuole far funzionare pensionati cassa integrati disoccupati ad invitare ai lavoratori disservizi e ritardi delle prestazioni rompere questo schema serve anche ad assicurare maggiore sicurezza ai lavoratori pubblici in un momento in cui sono facile il bersaglio della disperazione e delle frustrazioni dei cittadini utenti da questo congresso vada un ricordo a Daniele e Margherita le due lavoratrici della regione Umbria uccise da una disperazione che non distingue più responsabilità e nemici piuttosto che ripararci dietro doppi vetri infrangiamo le barriere e indirizziamo la rabbia verso chi è responsabile della crisi economica e dello smantellamento del welfare lavoriamo per trasformare la rabbia e la frustrazione in rivolta il 22 maggio l'USB pubblico impiego chiama i lavoratori pubblici a mobilitarsi manifestando in piazza Montecitorio davanti al Parlamento per rivendicare il ripristino dei servizi tagliati e alzare le barricate contro l'attacco violento e profondo a settori fondamentali della pubblica amministrazione la questione salariale è diventata centrale anche per i lavoratori pubblici rivendichiamo con forza e determinazione il rinnovo dei contratti con le tipi nazionali perché il contratto è un diritto dei lavoratori e dobbiamo rippellarci a questo sovruso perpetrato anche con la sostanziale complicità di CGL Cislamuido rinnovare i contratti è necessario anche per rispondere all'esigenza di assicurare un giusto inquadramento e una giusta retribuzione ai lavoratori pubblici sottopagati e utilizzati per nazioni e compiti superiori al loro inquadramento allo stesso tempo è necessaria l'abrogazione della riforma punente per cancellare le norme che impediscono di esercitare il diritto alla contrattazione e alla difesa degli interessi dei lavoratori impongono una fasura meritocrazia applicata in modo clientelare all'interno delle diverse amministrazioni e bloccano il riconoscimento della crescita professionale dei lavoratori pretendiamo la stabilizzazione di tutti i precari della pubblica amministrazione e l'assunzione dei vincitori e dei ritori dei concorsi pubblici già espletati per rinnovare gli organici e assicurare stabilità di impiego reinternalizziamo tutti i servizi affidati all'esterno e assumiamo i lavoratori delle ditte appaltatrici per riappropriarci dei servizi e restituirli ai cittadini e per togliere dallo sfruttamento migliaia di lavoratori delle società esterne i cui contratti e rapporti di lavoro raramente vengono controllati dalle amministrazioni pubbliche alle quali tali ditte forniscono i servizi ogni anno viene stanziato un fondo di oltre 400 milioni di euro per remunerare i servizi dei patronati e la maggior parte di quelle risorse finiscono delle casse di CGL CISL e Will che non si oppongono per convenienza e complicità politica alla privatizzazione di servizi fiscali previdenziali eccetera utilizziamo quelle risorse per assumere i lavoratori a tempo indeterminato e riportiamo quei servizi dentro il pubblico in pieno c'è un governo in carica con pieni poteri c'è un Parlamento appena eletto e ampiamente rinnovato il 22 maggio diamo la sveglia a questi signori e obblichiamoli a fare i conti come il pubblico in pieno e alla schiena e non interna subito di tanti e pressione recuperiamo forme di protesta che oggi possono apparire inusuali come l'autogestione opponiamoci alle scelte organizzative che comportano la soppressione di servizi o la chiusura di uffici inutili per il territorio sperimentando forme collegiali di autogestione che coinvolgano i cittadini magari per continuare a garantire servizi oppressi se quando hanno tagliato l'invio dei culte ai pensionati all'Inps avessimo occupato le sedi e avessimo praticato l'autogestione aprendo gli sportelli e stampando direttamente i culte ai pensionati avremmo fatto un servizio ai cittadini avremmo praticato una forma di protesta forte presidiamo sempre di più i territori con iniziative quali assemblee pubbliche convenghi dibattiti che abbiano per tema esperienze concrete di salvaguardia dei servizi e di presenza della pubblica amministrazione in prossimità dei cittadini come lavoratori e militanti sindacali del pubblico impiego dobbiamo partecipare con sempre maggiore impegno a quelle esperienze di confederalità sociale che intercettano i bisogni di chi finora non ha trovato rappresentanza come i migranti o i movimenti di lotta per il diritto all'orbitare il nostro lavoro ci permette di venire in contatto con lavoratori e non ai quali sono legati i diritti fondamentali contribuiamo a valorizzare e rafforzare questo tipo di esperienze nei territori cerchiamo di osare ma senza andare allo sbaraggio questo è il tempo delle donne e degli uomini coraggiosi questo è il tempo in cui gettare il cuore oltre lo Stato abbiamo un sogno nella società giusta che vogliamo costruire il fisco non è un abuzzino che si chiama equitabile ma è uno strumento equo di contribuzione fiscale che garantisce le stesse attimolazioni a lavoratori dipendenti e autonome si fa carico di tutelare i reti di più bassi e nessuno può fare il frutto perché se scoperti si pagano in multe salatissime e non c'è chi le cancella si è scoperto così che gioie e ieri guadagnano più di un lavoratore dipendente che ci voleva tanto le scuole sono pubbliche e le classi non sono affollate perché la buona istruzione va garantita a tutti ed è talmente divertente imparare che nessuno si assenta più e anche gli insegnanti precari sono ricordo la loro stabilizzazione li ha resi insegnanti migliori perché con meno problemi si è scoperto poi che tutelare la salute con strutture pubbliche conviene l'importante è non approfittarne e pagare le cose il giusto prezzo la prevenzione di massa ha fatto crollare le spese di ospedalizzazione e investire nella ricerca pubblica fa ottenere riconoscimenti internazionali e aiuta l'economia i ricercatori non sono più costretti ad andare all'estero e i doganieri hanno smesso così di contare i cervelli in fuga l'università è pubblica e lo è per tutti ma davvero per tutti le università private hanno chiuso i patenti visto che non ricevono più cospibili finanziamenti dallo Stato sono rimasti aperti solo gli atenei dove si sono laureati in quattro sindacali della Cisla al prezzo del 3x2 oggi praticano fuori tutto le prestazioni pensionistiche e assicurative ci sono e sono pubbliche anzi sono più pubbliche di prima i fondi di previdenza complementari privati sono tutti falliti ma se ti iscrivi alla guida insieme all'assicurazione contro i rischi professionali ti offrono l'iscrizione gratuita per due anni al piano previdenziale del fondo nel quale guarda caso la presidenza sindacale ma è solo una coincidenza anche la CGL che spesso svolge il doppio ruolo di rotta e di governo partecipa alla spartizione del bottino abbiamo una banca ma i lavoratori li mandano a capire lo stesso per chi nasce non c'è il problema di trovare un posto negli eseri pubblici comunali e le maestre sono tutte giovani e con l'impiego fisso perché all'inizio della tua vita hai diritto di vedere un sorriso piuttosto che una lavoratrice precaria in piazzata e siccome il lavoro impegnativo dopo un certo numero di anni le insegnanti passano alla formazione con il profusio i vicili urbani non sono più considerati carogne non perché non murtino gli automobilisti ma i comuni non hanno più bisogno che facciano cassa e si è scoperto che è molto più educativo un buon consiglio che un verbale lasciato sul più sconto i vicili del fuoco invece sono sempre quelli di una volta pronti a gentarsi tra le fiamme o a calarsi da una parete di piombo se c'è qualcuno in pericolo per fortuna che è stata rivista l'età pensionabile ed è stato d'olto dalla dotazione della divisa il mutandone assorbente con il doppio nastro gata di frangente abbiamo risolto il problema del costo degli F30C abbiamo abolito il ministero della difesa risparmiato 70 miliardi e riconvertito l'attività in villaggi vacanze statali è uno spasso vedere colonnelli e generali in spiaggia fare la gara con le formine a forma di carcere o di cingolato la giustizia è uguale per tutti ma questa volta per tapere anche per chi ci lavora all'interno i CIE sono stati chiusi a capo del ministero dell'interno c'è un senegalese sbarcato a Pantelleria una decina di anni fa presidente del consiglio è un metameccanico egiziano sembra sia il nipote di peroscuro vabbè non siamo riusciti a fare tutto bene ma non abbiamo mai spesso di sognare e di lottare per un futuro migliore ma ora usciamo dal sogno quella è la società che vorremmo e che ogni giorno ci impegniamo a costruire la realtà che abbiamo di fronte è dura concreta e richiede forza e determinazione per affrontarla la ricreazione è finita dopo la pausa elettorale nella quale tutto è rimasto come sospeso oggi c'è un governo politico patrocinato dal presidente della repubblica e che vede riunito un vasto blocco politico questo governo non tarderà ad agire con durezza perché la crisi economica è più che mai attuale e il pubblico impiego sarà con molta probabilità oggetto di nuovi e pesanti interventi sta a noi suonare la carica a partire dal 22 maggio e da questi due giorni di lavoro quella che vi abbiamo fornito è una traccia sono spunti sui quali riflettere molto è scritto nei due documenti congressuali molto ci aspettiamo arrivi dai vostri interventi le risposte le dobbiamo cercare tutti insieme in un confronto vero animato se necessario ma nella comune consapevolezza che a livello sindacale questa è la casa della quale è possibile costruire una reale alternativa al sindacato complice ha servito ai padroni trasformiamo la disperazione di chi oggi soffre la crisi in rabbia e in rivoluzione compagni e compagni adelante 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 andiamo a costruire un mondo di paz di giustizia sociale e di libertà andiamo a costruire un mondo di pace di giustizia sociale e di libertà poco congresso a tutti grazie grazie Grazie.